L'atteggiamento francamente non è cambiato, anzi alcuni sindaci continuano a mostrare segni di insofferenza, segni di non gradimento per queste persone. Altri sindaci dimenticano tutto quello che è stato fatto e dimenticano come funziona la struttura per l'assegnazione dei profughi. C'è una delibera proprio vista prima di un consiglio comunale di Casalvore, in questo caso che si oppone a un possibile arrivo di migranti. Non so cosa ha dato luogo a questa delibera, però ecco dobbiamo far presente agli amministratori comunali che anche se loro rappresentano il territorio, loro non sono i proprietari del territorio. Per cui fermarestando tutte le garanzie su eventuali iniziative anche di carattere privato tendenti appunto all'accoglienza, non possono prevalere su quello che è una decisione del cittadino o comunque un supporto sociale verso queste persone. Si è parlato del possibile utilizzo di strutture pubbliche in città, l'ex ospedale Mafucci era uno di questi edifici, in cantiere e anche altri plessi. In caso di difficoltà e di emergenza ulteriore ci potrebbe essere in qualche modo la disponibilità di una struttura di questo tipo? Ma c'è da dire che abbiamo avuto il via libera per procedere in caso di estrema necessità a requisizioni sia di strutture pubbliche che private. Il sul Mafucci abbiamo presentato il progetto al Ministero che ha anche finanziato l'intervento di recupero della struttura stessa. Stiamo aspettando purtroppo ormai da un po' di tempo l'ok da parte della Regione Campania. Il via alla requisizione quando è che potrebbe partire? Su quale soglie? Ma a secondo delle necessità nel caso in cui ci trovassimo impossibilitati ad avere disponibilità di strutture prenderemo in considerazione questa procedura.